musica Toulouse Ciao a tutti ragazzi qui Ambrades qui nel nuovo episodio della FTP insieme ad Alex ma oggi Alex non c'è peccato abbia il botto inutile Alex hai detto che non ci sono allora io non parlo sono brava ok allora ragazzi oggi facciamo due cose semplici semplici io faccio la Pared Furnace e Alex fa un attimo scusa vai vai rifarlo, stai fermo e rifarlo salta, gira tutto fai fai ok perfetto grazie per la intro ok adesso quindi tu fai le Iron chest io faccio la Pared Furnace facciamola per bene qua Pared Furnace arriverò ok quindi ci serve ci serve questo lo prendiamo questo pure questo pure con dentro cosa c'è la carne la prendiamo questo qua ok 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 perfetto op 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 allora vediamo vediamo 1 poi copper mettiamo 2 poi ok questo qui è molto semplice semplice quindi facciamo 4 ma perché butti queste cose qui vergognati non vanno bene ma ci credo che poi si riempi di fuori di fuori di fuori di fuori di fuori ok un altro di oro e il vetro eccolo qua facciamo tutta la barretta qua magica eccola e poi facciamo così alla cazzo come sto pronto a fare io oddio ci sono riuscita più una botta perfetto adesso questa qua questa qua questa qua questo qua pare di furnace clicchiamo adesso qua comincio a craftarlo perfetto tu ancora non stai facendo nulla giusto? ah non c'è lì sei passato davanti bravissima grazie comunque ragazzi ho scoperto che i libri non sono bugati c'è un altro strumento per farli che si chiama ehm mix qualcosa per la ecco questo qua adesso cosa me lo facciamo dai serve ehm quattro legna ripetercelo abbiamo per la boccettina poi cosa serve? basta cinque ok facciamo tre boccettina ok allora madonna sono qua pieni di oggetti perchè mi hai buttato questa roba allora prendiamo la stone non ci sto prendendo più una mazza guarda madonna questi qua e come se ci vuole anche quelle boccette perfetto quello abbiamo fatto madonna ma è di schifo che c'è nell'inventario allora tieni che cazzo sto scoppiando ma che cazzo sto scoppiando ma che cazzo sto scoppiando io dico dai inizio non è da io ma ricomincio a bannare vedi sono molto cattive queste cose Ecco la persona che è fuori casa Se apriamo in cilula Vedete giuro che lo banno adesso Mentre il registro Quindi Allora dopo aver fatto questo Coso La mettiamo qua e come vedete abbiamo Questa specie di sfera Questa sfera bisogna riempirla Con le boccette di inchiostro Ok quindi facciamo queste boccette di inchiostro Ne possiamo fare tante Ok una E due Tu come le hai fatte mentre le cesto Perfetto bravissimo Mettiamo Questo qua Poi a quanto so io se ne prendiamo Vediamo un po No Non abbiamo una pisa d'azzoli No Che cosa ne sto facendo Io vado a fare guardare Vedete Se guardo chi è lo banno adesso Quindi No non possiamo fare senza la pisa d'azzoli Ecco la redstone Cioè non so se funziona Vediamo No non si può mettere Ok Mettiamo qua l'altra Poi come funziona qua ragazzi E' semplice Prendiamo della carta La mettiamo qua E ci fa questa pagina Questo qui non si può mettere però no Vabbè Pazienza E facciamo il link panel Il link panel lo mettiamo qua dentro E ci fa il libro Poi questo libro Lo vedremo nel prossimo episodio Quindi lo buttiamo qua dentro Perfetto Adesso prendiamo qua La power of furnace E lo andiamo a mettere qua Ci servono adesso i tubi Dove sono Aspetta Per questo Che sta succedendo scusa Eh? Che sta succedendo? No niente Tranquilo tranquilo Perfetto Perché manca una leva? Ah quella non la so Non ho fatto niente Ok Si deve caricare Perfetto Adesso mettiamo Che questo qui Lo butta Di qua E c'è la necessità Che la metti qua Nel frattempo ragazzi Volevo dire che Nei commenti Dovete scrivere poi Degli obiettivi Dobbiamo fare noi Durante questa serie Già ne stiamo leggendo Alcuni impossibili Altri troppo deficienti Ma vabbè Pazienza Seconda cosa Mi invito ancora Iscrivervi al canale di Alex Perché appena arriva A mille iscritti Vinco la scommessa Io No allora Prima cosa Non c'è stata nessuna No non c'è nessuna scommessa Ragazzi Io È pirla Ecco Ecco E ora Basta mi metto qui La scommessa è una cosa fra di noi Non mi preoccupare Ok Ma cosa? Ma non è vero Non abbiamo scommessa niente Bugiardo Ok Ora La posizione Continua Ok 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 Sta funzionando Che c'è? Oh C'è un creeper C'è un creeper C'è un creeper C'è un creeper Ok Ok Mi fa entrare dentro il caso Bravissima C'è anche un pollo La sto lì Ciao pollo Piccola 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 Ok Adesso la picchio eh La picchio Io ti apro la porta tu Cosa fai? Io ti apro Ok vado Apri la porta Anzi no Anzi no Sei andato Chiudi la porta Via 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 Oddio Giusto in tempo Perfetto Ecco ragazzi Devo fare anche una cosa Qua sotto nelle bacche Abbiamo fatto noi Un secondo piano Dove mettiamo queste qua Queste bacche Che danno l'esperienza In pratica Aia 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 Sto crepando con le bacche Bacche assassina Guarda Guarda prova Mangere una Guardate sarà l'esperienza Anche se danno poco Pazienza Comunque Sali 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 Perfetto Perfetto Siamo tantissime persone nel server LOL Ok Comunque ragazzi Questo episodio Lo finiamo qua Nel prossimo episodio Faremo qualcosa di particolare Non so che cosa Poi ci penserà Anix Giusto Anix? Si 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 Esatto Perfetto E in più Vi volevo spoilerare Una piccola cosa Ovvero che noi Episodio random Faremo entrare uno di voi Per un paio di episodi L'incirca Quindi chi lo sa C'è una cosa qui Adesso sceglieremo Esatto Ho il pollo Il pollo 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 è mio Infatti in questo episodio No Non ammazzare il pollo L'altro episodio in particolare qua E' il pollo Capito No Quindi adesso chi entra Me ne è picchiato No 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 Il mio pollo mi serviva Capito Era un pollo Si Con te ho chiuso Ok ciao Ciao ragazzi Non durerà più di una notte Io sto in compagnia del pollo Emme Emme Sarai caduta Emme Ecco Pollo Pollo Oddio dov'è? Metti la terra Metti la cera Metti la terra Metti la terra Metti la terra Metti la terra Ok ma se facciamo lo SpendSource Facciamo una cosa Un pochino più grande Cioè non penso che in un blocco può vivere un pollo Ma questo lo devo fare nel mio video Ehm 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 Perchè sono stanche di ricevarmi di bacche E di Ehm 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 perchè non ti posso dire ma sicuramente se mi butto mi faccio male eh non la so prova molto fettile due uno adesso muoio lo so lo so lo so eccolo la ok vieni qua aiuto oh ma qui c'è un blocco di rana sai che possiamo farci il letto? eh me domanda ma tu hai stoppato il video no perchè? oh ok no no niente eh così comunque ragazzi invece lo stoppiamo adesso il video quindi mi do sempre a mettere mi piace se vi siete piaciuto iscriviti al canale se vi piace e come sempre Alex puzza ciao a tutti no tu puzzi let me sing for you no 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 no